sono mattia camorani titolare della cmc lattonieri siamo di canossa quindi ovviamente del territorio siamo specializzati in coperture e rivestimenti metallici l'azienda a quest'anno compie 47 anni quindi direi un'azienda storica ci consideriamo ancora artigiani perché dai nastri di metallo arriviamo un po il prodotto finito insomma quindi questo è un procedimento una procedura che giornalmente facciamo insomma diciamo che l'obiettivo di questo intervento non era tanto per un discorso pubblicitario nostro era di dare qualcosa alla reggiana calcio e alla a tutta la città tutta la provincia di reggio perché penso che alla fine reggiana rappresenti tutto il nostro territorio della nostra provincia quindi lasciare qualcosa che rimanesse nel tempo sicuramente è stato il nostro primo obiettivo insomma siamo molto soddisfatti del risultato finale devo ringraziare un po oltre ovviamente alla collaborazione che abbiamo ottima con la società e anche il comune di reggio emilia perché ci ha accompagnato un pochino in questo percorso sicuramente un grosso grazie ai miei collaboratori devo fare tutti nessuno escluso perché è stato un progetto un po diverso diciamo dagli altri un progetto dove tutti quanti un po hanno messo un pezzettino insomma ognuno ha fatto il suo lavoro un impegno una passione diversa ognuno ha messo il suo pezzo in questo progetto e quindi questa sicuramente la soddisfazione maggiore